Polizia e Guardia di Finanza di Agrigento stanno indagando su un rave party abusivo organizzato nei giorni scorsi a Menfi. I primi sviluppi sono arrivati dopo che i tutori dell'ordine sono piombati nel mezzo dell'evento illegale, sequestrando gli impianti musicali e identificando parecchi partecipanti provenienti non solo dall'Agrigentino e dal resto della Sicilia e dell'Italia, ma anche dall'estero. Le forze dell'ordine sono infatti sulle tracce degli organizzatori e a breve potrebbero esserci novità in merito, visto che gli investigatori hanno già una lista di sospettati da controllare. Dopo essere arrivati sul posto gli investigatori hanno cerchiato la zona per identificare quanta più gente possibile e adesso stanno raccogliendo le deposizioni di parecchi di loro. Secondo quanto emerso finora non sono avvenuti incidenti nel corso della manifestazione musicale abusiva, ma ci sono parecchi aspetti che l'indagine coordinata dalla procura dovrà chiarire.